Benvenuti in questa nuova contro rassegna stampa delle notizie diffuse in Italia dei media euroatlantisti dopo una lunga convalescenza che dura ormai, è durata, quantomeno spero sia durata, diversi giorni in questo periodo pasquale di festa cristiana. Iniziamo a queste parole. Zero prigionieri di guerra vivi, nato di eserciti nato nazionali con gli emblemi nazionali regolari, per esempio francesi, polacchi, eccetera, e grandi ricompense, quindi milioni di rubli, quantomeno, per tutti quei soldati russi che riescono, riusciranno ad eliminare soldati nato con l'effigie, con i simboli nazionali di paesi membri all'Alleanza Nord Atlantica in Ucraina. Queste le promesse, le proposte, quantomeno, del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, l'ex presidente della federazione, Dmitry Medvedev, su Telegram. Dice lui, l'Occidente si crede essere furbo e tratta come stupido il resto del mondo, ma non ci riesce. Questo invio di soldati di paesi nato in Ucraina porterà sicuramente all'Escolazio, in Ungherese, all'allargamento del conflitto, un conflitto che diverrebbe direttamente con dentro, direttamente coinvolto l'Alleanza Nord Atlantica, la Nato contro Mosca e chissà chi altro come potenziale alleato del Kremlin, si pensa soprattutto alla Cina, la Nord Corea, l'Iran. Dice Medvedev, le forze regolari in Ucraina-Nato diverrebbero parte nemica ufficialmente per Mosca, al di là di tutte le reclami, le dichiarazioni che cercano di tranquillizzare l'opinione pubblica in occidente dalla parte, per esempio, di Stoltenberg o di Macron. Sergei Shoigu, ministro della difesa russo mercoledì scorso, ha avvertito il collega all'omologo francese, ministro della difesa di Parigi, Sebastiano Cornu, le squadre in Ucraina francesi, in questo caso una scelta che porterebbe l'Eliseo a conseguenze catastrofiche per il futuro della Francia, per possibili attacchi proprio dalla parte delle forze guidate dallo stesso Shoigu. La Nato diverrebbe parte integrante nel conflitto. Secondo Putin, presidente russo, diverse settimane fa, poi frasi e avvertimenti alla Nato più e più volte ripetuti, tutto questo, quest'idea di Macron di non escludere quantomeno l'invio di soldati Nato, paesi Nato in Ucraina, sarebbe un ulteriore passo verso la guerra totale, la terza guerra nucleare. Per quanto riguarda poi le parole del ministro degli esteri polacco, Radoslav Sikorsky, marito di Anna Pelbaum, Galassia Soros, si parla letteralmente di un'approvazione già conseguita, già c'è stata l'approvazione in ambito Nato tra diversi stati membri, evidentemente la Polonia quantomeno, per una missione militare in Ucraina. Queste parole di Sikorsky alla televisione pubblica TVP Polacca di Varsavia. Ha detto, abbiamo portato a termine una seduta, c'è stata una decisione presa ufficialmente, tutto questo però tranquillizza, non significa che andiamo, entriamo in guerra in Ucraina contro la Russia, perché i nostri soldati con l'effigiene nazionale non faranno altro che lavori di coordinazione, addestramento e pianificazione in collaborazione con le truppe di Kiev, quindi per appoggiare militarmente ancora di più in maniera più efficiente l'Ucraina nella guerra contro la Russia. Quindi tranquilli, paesi Nato non entrano in guerra. Poi il secondo, secondo, poi il quinto articolo, l'articolo 5 della Nato, come riportato dall'Agenzia Stampa Nazionale Tedesca DPA sulla base di esperti militari parlamentari del Bundestag tedesco, se ci sarà questo invio di soldati di paesi Nato in Ucraina, la Nato non diventerà automaticamente parte del conflitto. Cioè se le squadre, per esempio squadre di terra, fanteria francese, va in Ucraina a combattere contro i russi, secondo il 51esimo articolo delle Nazioni Unite e dell'ONU, questa visione avrebbe solamente una funzione di difesa della sovranità nazionale ucraina. Dunque la Nato non diverebbe in totale, to cure, parte della guerra, ma solo lo Stato colpito per esempio dalle forze armate russe o chissà chi altri dalla parte opposta nemica nel territorio ucraino. Cioè ad entrare nel conflitto direttamente sarebbe solo teoricamente la Francia e non automaticamente tutti gli altri 31 membri della Nato. Le parole abbastanza incredibili, pesanti di Anthony Blinken, segretario di Stato americano, ministro degli esteri sarebbe di Washington. Il dittatore russo Vladimir Putin non riuscirà a conquistare la capitale ucraina, Kiev, né tantomeno tutta l'Ucraina, assicura Anthony Blinken come riportato all'agenzia stampa rbc.ua in Ucraina. E Carpatir, sito di informazione della minoranza ungherese in Transcarpatia, in Ucraina occidentale. Lo stesso Blinken che qualche ora prima, l'avrete ascoltato, ha anche parlato di una questione di tempo e non di sé, l'ingresso nella Nato ufficiale della stessa Ucraina, che poi è una delle condizioni per andare a creare i presupposti per una guerra mondiale, quello per cui una delle cause dell'attacco russo nel 2022 a febbraio nei confini del 91 Ucraini orientali, settentrionali e poi anche meridionali, come ricorderete tutti. Dice il ministro della difesa estone, Anno Pefkur, parole molto controverse. Già tutti i soldati di tutti i paesi membri della Nato operano in Ucraina, non credo proprio tutti, come per esempio Slovacchia, ma soprattutto Ungheria. Dice il ministro di Tallin, portano avanti questi soldati Nato, temporaneamente, va ricordato, solo dei ruoli di coordinamento per le truppe di Kiev, come assicura il politico estone della Repubblica Baltica, sappiamo l'approccio baltico contro i russi e filo americano, all'agenzia stampa Union Ucraina. Il Comitato Olimpico Internazionale, credo che in italiano sia il CIO, questa sigla, ha chiesto ufficialmente, non ufficialmente, in realtà sostanzialmente, ma ufficialmente assolutamente no, infatti vedremo perché, agli atleti, ai sportivi olimpici ucraini, di spiare gli sportivi russi con colori neutri e bielorussi che parteciperanno quei pochi all'Olimpia di Parigi di questa estate, fra qualche mese. Thomas Bach, il direttore del Comitato Olimpico Internazionale, il presidente, è stato preso in giro sostanzialmente, è caduto trappola degli imitatori radiofonici russi, vovano e Lexus, quelli che hanno preso anche in giro il primo ministro presidente del Consiglio Italiano, Giorgia Meloni, qualche mese fa. Cosa ha detto Bach? Che tutti gli atleti russi saranno spiatti, anche grazie all'aiuto delle prove raccolte dagli atleti ucraini su internet, nei media, tutti quei russi e bielorussi che appoggiano e assegurano in un certo senso qualsiasi tipo di politica estera del Cremlino e di Vladimir Putin in correlazione all'annessione dei territori ucraini del 91. Arriva l'allarme dalla parte di Budvash del governo Fidesz, di Orban, il ministro degli esteri, Siarto Peter. In troppi vorrebbero già varcare ogni tipo di linea rossa in relazione all'ingresso in guerra diretto in Ucraina contro la Russia all'interno della Nato. Ma all'Ungheria noi cercheremo in ogni consiglio Nato di fermare, di frenare, di dire no e di non portare l'alleanza ufficialmente difensiva in guerra contro il Cremlino e contro chissà chi altro. Questa non è la nostra guerra, dice il capo del di Castero di Budapest, a Bruxelles in un video pubblicato anche su Facebook. La Nato vorrebbe portare la guerra più vicino a noi o addirittura sul nostro territorio oppure vorrebbe trasformarsi ufficialmente anche in una alleanza non più difensiva ma addirittura offensiva porta avanti guerre di attacco per esempio contro Mosca. Cioè vorrebbe Sogna, la famosa Escolatio, l'allargamento del conflitto. Questa non è e non sarà mai la nostra guerra, la guerra della Nato, una Nato che non deve assolutamente trascinarsi in un conflitto diretto contro Mosca. Cosa propone Maria Zakharova, portavoce Ministero degli Esteri Russo, domenica scorsa? Credo su Telegram. Il boicottaggio completo degli articoli, prodotti soprattutto agricoli francesi in risposta alle parole di Anne Hidalgo, sindaca della nuova sinistra della capitale francese in relazione alle Olimpiadi. Cosa ha detto la francese? Che gli sportivi, gli atleti russi e bielorussi non sono i benvenuti alle Olimpiadi proprio nella sua Parigi. La stessa Zakharova, portavoce russa di Lavrov, ha anche risposto a Nalena Baerbock, cioè Ministro degli Esteri tedesca, capo della cosiddetta diplomazia di Berlino. Dice la Zakharova, comprati uno specchio, un libro di storia delle scuole dell'università e una gomma da masticare. Perché? La tedesca, scusate, ha detto in una intervista riportata da Funke Media in sabato in Germania, che i desideri di potere imperialisti, demoniaci poi anche definiti così, di imperialismo, di allargamento del potere, del controllo territoriale di Putin e del presidente russo del Cremlino, porteranno, rischiamo di portare la Nato, trascinarla in un conflitto iretto. Dice la Zakharova la stessa Baerbock, la Nato è a circondare con le sue basi sempre di più le strutture strategiche, soprattutto nel fianco ovest dell'immensa federazione degli undici fusi orari. E comunque la gomma da masticare servirebbe, secondo la Zakharova, la Baerbock, per pensare di più e non dare fiato a nuove stupidaggini. Andiamo avanti con le parole di Toroskoilaslo, politico dell'opposizione a destra di Orban, accusato da certi ambienti europeisti sulla questione di Voice of Europe, censurato dalla Repubblica cieca, perché sarebbe un medium filo russo, sarebbe stato poi un medium filo russo, che sarebbe servita come rete per finanziare e influenzare europarlamentari, il Parlamento di Strasburgo e Bruxelles. Sentite il messaggio di Toroskoilaslo. Ecco chi sta dietro finanziariamente con sostegni in dollari e anche in euro, alla campagna diffamatoria contro i partiti antiglobalisti in Unione Europea, cioè i partiti che non vogliono la terza guerra mondiale, non vogliono l'appoggio militare dell'Ucraina di Zelensky, che vengono trattati così, in questa campagna diffamatoria proprio prima delle elezioni, guardate caso, le elezioni di giugno prossimo, le elezioni europee, come agenti russi. Ci sono tra i finanziatori USAID, c'è quella istituzione, l'istituto con fondi pubblici americani per la promozione ufficialmente della democrazia nel mondo, opera anche in Ungheria contro Orban, poi il Ministero degli Esteri americani, Anthony Blinken, la fondazione Conrad Adenauer e altre meno con conosciute, tra cui però spunta anche il nome del governo della Repubblica Ceca, stessa Repubblica Ceca e come sappiamo ha oscurato il sito Voice of Europe per quello che ho raccontato poc'anzi. Le fonti, come riporta anche Torosca e Lastro, sono le fonti ufficiali, di finanziamenti ufficiali di questo tipo di organizzazioni, riportate anche dal partito olandese sovranista, chiamatelo come mi pare Forum per la Democrazia, alleato a Miozank Moskolog, proprio di Torosca e Lastro, il movimento per la nostra patria, della nostra patria in Ungheria. Lo stesso Torosca e Lastro, sempre su X, attacca il profilo che uso anche io su questo canale per l'ucrainismo modello, che è polacco, americano, diverse nazionalità e sostegno anche americano, vice grad 24, che è sicuramente ultraatlantista, ucrainista e filo israeliano per esempio. Dice Torosca e vice grad 24, sostenuto in parte anche dagli Stati Uniti, riesce a giustificare e farsi forza su un genocidio, un tentativo di genocidio, se le vittime sono state giapponesi e tedesche o ungheresi durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi a giustificare, riportando, commentando il video di una giapponese che chiede delle scuse dalla parte almeno americana per le due, bomba atomica Hiroshima e Nagasaki, sulla base della sconfitta dell'imperialismo giapponese e del nazismo, che dire loro sono sempre dalla parte giusta della storia, la storia che è bianca e nera e non ha assolutamente scale di grigi per loro in questa visione biblica della realtà della vita e della storia. Grazie per aver visto questo video, al prossimo tra Italia e Modio e Rorsag.